Molto bene, adesso è il momento di un gruppo, di un gruppo di flautisti, quindi io chiamo qua Emilia, eccola qua, Martina, Asia, Aserovati, Arianna e Michela, tutti qua, ecco qua. Grazie. 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 Adesso vi farò sentire Schopard Song. Pronta? Grazie. Grazie. Un grande bravo Luca. Emilia, Martina, Asia, Asia, Michela e infine Asia. Comunque un applauso per tutti, un bel inchino, uno, due, tre.